Sono dei ruoli strani, cioè non volevo mettere... Vabbè, adesso decidiamo. Questa sera dobbiamo arrancare su LOL, perché questo weekend, il prossimo weekend, sarà il Clash, probabilmente lo streameremo, forse sì, forse no, non lo so. Però appunto bisogna arrancarsi, quindi purtroppo per questa sera non ci saranno le rotazioni, per cui sarete meri spettatori, però non vi preoccupate, tanto le live di LOL ci saranno ancora. E niente, non sono l'unica, quindi questa sera saremo in compagnia di le persone. Luca, te ne vai, affanculo. Ciao, Alice. Buonasera. Appena chiesto se vai a Boldarius Giungla. Porca puttana, ma perché? Cioè, Luca, esci dallo stream. Quanto? Hai vi avverto, potrei abbandonarvi in mezzo a una partita perché mi sto cantando addosso, ma andiamo, dai. Ok, niente di Dream Team Run e Pingu. Allora, niente Dream Team Run e Pingu. Run? Run ho detto! E vieni. Allora, mi dite come sono i volumi, per favore. Ehi, sono un volume, diteci per favore. L'estensione di LOL oggi c'è. Io sono un altro volume. L'estensione di LOL c'è, sì. Io un altro. C'è il tracker? C'è il tracker, c'è il tracker. Luca è spelluto dal Trem Clash e posso prendere il posto in giù tutti. È spelluto qua. Spelluto è bella. Nidrek, prima devi andare a prendere il tuo diploma di quinta elementare e poi forse ne riparliamo. Comunque... È spelluto. Beh, Luca, tu non puoi parlare. Luca, tu sei l'ultima persona in questo posto. Io non so scrivere, ok? Anche Nidrek ha scritto. Cioè. Allora. Comunque, io ho messo support semplicemente perché al Clash poi dovrò fare support con Zappo e Pingu. Però se volete possiamo anche girare e provare un'altra comp, eh? Ah. Oh, f***. Non è. Va bene, questo silenzio vale più di mille parole. Ma ragazzi siete due support, ma che cazzo fate? E vabbè, tanto si subicciano ora. Zappo, vai, vai giù. Cosa? Eh sì, eh. Eh sì, no, no, vai giù. No, no, no. Perché ho un po' due support sulla top, dai. Allora vado io top, no? Ma Luca, vai top, ma che cazzo fai? Io vado, non lo so, vado io top, ditemi poi. Vai top, vai top. Vado top io, ok. Io non ho parole, ragazzi. Dai. Non lo so, io mi ero messo top prima, sono andato giù, non lo so. Sono numeri. Alicia, per favore, io... Cioè, rappresenta la regola del canale, delle bestemio, cioè... Per favore. Il cazzo si vanna in top ora. No, anche perché non... Cioè, mi faccio... Darius. Darius, sì. Solitamente sì, esatto. Ciao Bigfoot. È importante riconoscere l'orrore, esatto. Mi piace come queste siano le ranked per provare il Clash e non sappiate nemmeno i ruoli. Nidric, perché siamo dei talenti poliedrici. Eh. Noi non abbiamo bisogno dei ruoli. Sono delle... Non so. Delle strutture arcaiche. Esatto. Ma mi hanno mandato Fiora, ma porca montana! Luca, hai qualche altro top laner? Sì! Ah, ragazzi, il sopravvenire del vomito insieme allo strizzone può presagire un virus intestinale. Io non vorrei allarmarmi, ma mi sa che devo correre un attimo. Torno subito. Ok, va bene. No, picca, picca, no, picca! No, dato, picca! No, dato, picca! Chiamato, ok. Sì, ho chiamato, picca. Ok. Uff. No. E... Una cosa, non so che support... Io da un po' che non gioco support, per cui... E c'hai Morgana, no? Sì, o Morgana, o Karma, o Leona. Leona, Leona. Leona? Ho visto un set anche girare lì. Sì, sì. Ma set è... Mi piacerebbe provarlo anche top. Eh, set è top e forte, io l'ho provato. Perché allora devo riprendere... Auguri, Luca. Eh? Hai il cocotelli. Cazzo, Renekton contro! Yeah. E... Prendo morre? Sì, prendi quello che vuole, dice. Non ha più senso, tipo Morgana per lo spell sheet e per Renekton. Però non abbiamo tank. Fai come vuoi. Ma no, io... Guarda, posso dare Zapp, se vuoi. C'è Zapp che devi piccare tanto. Va bene, ok. Non siamo troppi a P. Siamo tutti a P. Posso andare io a D senza problemi. Posso andare Garen, nel senso... Oh, my God. Garen rompe sempre i coglioni. Eh, sì, eh, eh, sì. Eh, sì. Cazzo, è vero, ma io la skin prestigio di Garen, me lo diventico sempre. Cazzo che vado, Garen, sì. Le cose. Immaginate la skin prestigio di Garen. Quando diventerò RIP, chiederò per la skin Zapp, per Zapp. Sì, no, proviamo. Amici, ho il Dark Harvest su Garen, se non switch. Eh, anche il TP non sarebbe male. Eh, il Naito... No, il TP non... O Lial, volevo le... Wait, a dice support, sì, Giamo, perché al prossimo Clash... Eh, probabilmente dovrò fare support. Oh, che cazzo di Runeo? Ma tu hai anche la skinfica, scusa, di Luca... Sì, di Luca. Grazie. Direttamente, io sono una skinfica, sì. Vado a pisciare un attimo, torno subito. Sì, così. Tutti in bagno, dai. Non c'è anche un'altra. Allora io vado a half, come è maestro. Allora, ho preso. Così. Ma speriamo che Dado non sia deceduto. Amici, che silenzio. Ma c'è la skin figa di Gin. E' stracarina questa. Sono un po' di ragazzo, sono pazzesco. Ah, è tornato, vivo. Hai visto? Luca è venuto a salvarti. E' Luca sì, è venuto, è venuto in bagno per solidarietà. Ma davvero? Che cazzo? Cosa è stasera? Non lo so, succedono cose pazze. Dai. E' veramente, veramente figa questa skin di Gin. No. Alice, non c'è che non hai aperta l'app di Twitch. No, no, ce l'ha aperta. A cazzo non ce l'ha aperta. Twitch. Mamma mia. Ah, lasciami stare. Allora, con queste rune io devo andare. Dio mio. Ma cos'è che devi fare? Non devo andare questo. Qual è l'altro item da support? Come si chiama? Runi rune. Vantaggio del mago ladro. Relic. No, ma ho fatto le rune. Ah, no, lo scudo rilizia. Grazie. Non so perché sappia gli oggetti da support, visto che non ci vado mai. Però li so. Luca è pazzesco, è stata cosa. Io mi farò studiare. Dovrebbe essere... Ma dovrebbero studiare per altri motivi a me, però. Assolutamente sì, Luca. Fatto, lo tengo. E... Una cosa, è partita la cosa? Adesso, guarda. Solidarità, suppongo, Ammone, perché sei una persona fantastica, hai capito? Sei una persona fantastica. Comunque sì, sì, va il tracker adesso. Yeee. Eee, ma funziona solo per te, quindi? Ma funziona per tutti? No. Oh, ma è pazzesco. Ma che figo, vedranno me fare schifo, dai. Sì, sì. Sì, sì, ve lo conferma. Ah, no, dici per tutti, nel senso che se la prossima volta tu streami LOL. No, ma devi installare, perché è un essenzione. No, no, dico se fa vedere la roba di tutti. Ah, sì, falla vedere la roba di tutti. Fa vedere come se tu stessi aspettando il game, e quindi fa vedere tutte le stazze di tutti. Figo, figo. Carino. Così anche se... Come la gente è un motivo più per scassare il cazzo, non so. No, però ad esempio, quando... Quando io guardo gli stream di LOL, mi piace. Vendere queste cose. Ma quello... È comodo, sì. Però io sono una persona sana. Cioè, tendenzialmente. Per alcune cose, sì. Ah, ma io ho tutti gli state fate, mi sono accorto nuovo. Non posso andarci, mi sono accorto. Gli preoccupano di preoccupare, tanto perché è sprecato qua. Chi è il loro giunglio, ragazzi? Li signo. Li signo. Faccio di sistemare le robe. Occhio al quattro. Focca. Li uccidere, li uccidere. Abbiamo due. Devo aspettare il carretto. Cazzo, gli sei ricaricata prima la skill. Dai, Yeruk. Eh, ha pochissima vita, Renekton. Ma me lo faccio. Ma... Non so se presenta la vita di recuperare Renekton. Sì. Per prendere alcun video. Infatti è quello il problema. Devi ricordarmi di essere in live e di non dire cose terribili. Le cose pazze. Io, scusate, però, non sono proprio confidente con questa lane, per cui guarderò molto più spesso questa lane piuttosto che le altre. Provite l'Hall Tracker, eh? Che streamer di qualità. Avete visto, ragazzi? Sono stupida. Potete carcare il cazzo anche a me che sono mid. Sono veramente stupida. Is back sitting allowed. Certo. Spoiler. Spoiler. Provisci. Ah, mi ha visto, mi ha visto. Am I stupid? De sim, de sim. Fra due secondi ce lo stun. Maremma buona. Non ce credo. Non ce credo. Cristo. Cristo. Se vedo quanto è. Cristo. Ma beh. Eeeh, va così, va così, dai. Sono soddisfatto. Becco anch'io? Ma dipende. In che senso dipende? Come non c'è. Ormai ho beccato. Come si build a Morgana così? Vabbè, immagino che sia sempre... Imperial Mandate, credo. Sì. Sì. Cazzo, c'ha due assisti, stupis, effettivamente. Ah, adesso si sistiamo le cose, tra l'altro. No, scusa Renetto, non ho capito. E ora flexa, Luca, lo sapete che cacca in bocca, ma sta zitto, cazzo. No, 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 bisogna fargli capire, subito, che comando. Occhio a me sta zitto, se no me bannano, Luca. Lì, sì, in qua. Evidenzialmente è una fake news, lì c'è la sua sensibilità di frittaggine. Ovviamente. L'hai intata. L'ho preso, preso. Te l'hai intata? No, ma tu dimmi se te l'hai intato. Lì sì, in mid. Scusa. Ok, ma quello non ce la faccio. Questo è il muore. Pazzo. No! Ok. Fa ancora missa TF. Non so se sono andate al drago, però. Eh, missa la T-Carry. Allora sì, sono al drago palese. No, no, no. Penso sia andato lo scatletop Resin. PC? Tanto sto beccando. Sì, TF ora è mid, quindi. Sì, sì. Mh, queste carte te le ficcassi nel culo, Maremma. Cosa, Max, ho la culo? Sì. C'è l'isim qua? Vorrei il carretto. Stai arrivando anche Renekton, eh? Mi fa piacere. No, 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 è... Stai arrivando in giù. Penso dove si sa. No, non volevo mettergli... Maremma. Non volevo metterglielo. Maremma. Ah, no, 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 no. Cazzo, è vero che sì, tipo, bello. Ha fatto il livello 6 adesso. Dito che riesco a parare per osmosi guardando su... Guarda, se guardi qui probabilmente... Non lo so. Impari a giocare a Dota, forse. Holy shit. Mamone, guarda, se vuoi avvicinarti a questo gioco te lo sconsiglio. Non, non... Esatto, non Dei voler imparare, che sta buono. Imparo cosa non fare, sì. Per esempio, aprire il gioco. Esatto. Quello non farlo. No. Puscio, puscio. Impeccato TF. Cazzo, che stupida. Eh, ma... Mi dimentico di avere questo oggetto coperto. E' da support. Scusami. Non ridere. È un problema la... La denza senile. Soprattutto... Alla tua età. Soprattutto senile. Esatto. Dai, se no non mi ha morto mai. Oh, che c'è l'e-sync qua? Sì, lo so. C'è arrivato. Attenzione che lì si potrebbe salire, eh, Luca. Eh, stava scendendo, però, voi. Mi è volto giù. Ma quale segno mi dice? Quello che si fa... Mi viene in mente che ne c'è una battuta, stronza. Ormai 30 si è vicino. Oh, non riesco a colpirlo! E sti cazzo di mignone non avanzano. No, Luca, queste parole però non me le dice. E ovviamente gli si è ricaricata la ulti. Va bene. Ah, devo arretrare, forse. Va bene. Scusate, non ho in data. Dovrei formarli tutti. Sì? Sì, sì. Zenite che mi scrive Ciao, Luca, potresti salutarmi in diretta? Vaffanculo, Zenite. Ma che cazzo di range a quel cane? Proppo. Madonna! Scusate, ragazzi. Ah, va. Zap, sappi che ho visto. Eh, non te lo posso tenere, però perdo tutto. No. Cazzo. Occhio, Luca, c'è l'isinno. Sì, sì. No, ma muoio, muoio. Cazzo, ma... Non l'ha ultato? Eh? Eh, mi hanno devato. Ha tippato. Ha tippato? Se vuoi, Zap si fa, però, non so. No, 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 fermo a Mide, fermo a Mide, forci. Madonna, santa. Taff, qua. E' tanto rascendere i sin. Vabbè, mi sa io. È doomed. Un pochino. Eh, tanto... Ma quella skinna le chiappetta al vento, sì. Questa qua di Pingu. C'è la tra l'altro sulla F1. Questa qua sì. La tua. Chiappetta. Perfetto. Alice. In realtà... È arrivato lì, sin qua. No, non lo so giocare così, Morgana. Cazzarola. Cristo, Dio. Non ce credo, si è salvato. Ma dai. L'ho anche smaitato. Grazie. Oddio, papà. Che cazzo sta andando. Pappa, pera, pera, pera. Non ce l'ho. Non ce l'ho più usare... Un pizzietto qui. Questa è intanto. Lisinga nel bot. Dove. Che paura, ma sei scema. Sono un po' cazzo in mano anch'io. Ma te sei pazza, completamente. Ma perché, perché i miei riflessi non esistono. Cazzo. Scusate. Forse vorrei anche andare a mettere vision in qualche certo qual mod. Credo sia un'altra cosa. In un certo qual mod. I miei riflessi non esistono. Infatti no, non esisto. Non ci sono. Qui manca la toffa, io ve lo dico. No, Renekton dopo che l'ho ucciso se n'è andato. Non so dove sia. Ah, ecco l'è tornato. Eccolo. Reunu? Cristo! Ah, tippato. E non stai riuscendo a giocare, ragazzi. Ci sono, ci sono la... Dieci secondi gli ho ulti. No, 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 no. Tempo a reggir, tempo a reggir. Ho visto Jhin. E' andato. E' cazzo. Ci siamo andati, dai. Dovevo ultarlo. Ci deve, vanno. Porca vacca, ma un colpo, ma da... Eh, Renekton. Oddio, arrivo, 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 Pingu. Cazzo, ma io ero sicurissimo di averci ultato mentre c'era... mentre ero in Fad con Zap, Renekton. Credo l'abbia fatto, credo. Vuoi essere ricaricata già? Vuoi? Infatti, vabbè, non ha la ulti, vado. E invece no. Sono abbastanza sicuro abbia ultato, Poso. Lì, sì, stasera. Eh, no, no. Non so se avvolta, non la so. Eh, scappa, scappa lì. Lì, 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 lì. C'è qua lì, sì. Ecco. E' vaffanculo la ulti di Karina, è sempre pure buona. Oh, nice. Yeah. Che car, che clip ovviamente, è il mio urlo. Cazzo, la piazza. Oh, shit, ma ci hanno già fatto tutte e tre le trovo qui. Sì, sono abbastanza grossi. Sono presa tutta la black hat. Arriva. Sto arrivando su, sto arrivando su Twisted, sto arrivando su Twisted. Eh, ma guarda quanto core. Quanto cazzo, piozza. Ero qui, quello non avesse preso il tuo stun. E' furio. No, mi fa troppo dare. Eh, via, 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 via. Questo mi senti fatto solo. No! Speravo passivi un attimo. Saremmo morti tutti e due, guarda. Probabile. No, no, non l'ho ulti. F. Eh, no. No, no, ma non è... Bellissima tutta alta su le sigla. Scusa. Scusa. Arrivo da un velo, da un velo, manobot. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Figurati. Devo beccare. Becco e vengo a darti una mano top, eh. Ok. Luca, arrivo da dietro. Ah, ok, ho dato aspetto. Ho ilato per errore, va bene. Arrivo. Lo silenzio e lo lupo. Bellissima combo, Dada. Eh, TP. Ci sono anch'io, eh? No, 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 no. No, 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 Luca, Luca. Sì, 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 me ne vado. No, niente up. Puttana, scusa. Che cazzo è? Pensavo di avercelo sull'uno, ma è bad. Ho sbagliato. E non ho capito, hai pingato per caso il cronopo. No. Questo qui. Curiosità, Rami. Ma lo chiamano, questo ti fa fare, ok, facciamo questo. Ho freddo. Freddissimo. Anch'io. In camera mi è tipo 24 gradi, una roba allucinata. Ma arrivo qua? Ma abbiato me una sega, no. Ah, si prende la top. Si sono presa anche un altro volante. No, 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 no. Ah, muoio. No. Eh, cazzo. No. Eh. Ero morto allo stesso modo. Vai, 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 dato, dato, dato. Via. Vida. Madonna. No, quelle carte, te le picchi nel culo. Cazzo. Cazzo. Spin to win. Cosa? Dai. Mi metti, cagli. 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 Dai, dai, Luca, ce la fai. No, mi ne vado, ma fai. Dai che resisti. Io sopravvivi. Oh, nice. No, non vai, qualcuno mi metto. Sì, sì, ci vado io. Dovrei anche guardare un pochino, l'ho giungata troppo, se no. Scende qua, Gin. Sì, sì, ma ci sono anch'io. Cazzo, finita, Lux. Ma guarda, Gin, ti stava cambiando addosso. No, era qua, è qua, è qua. Ah, qua c'è l'E-Syn. C'è il tetto. No, ho messato l'acqua. No, no, non c'è Gino. Eh, vorrei girarmi sul G, non fatti. Ma vaffanculo, mi ha un tato. G in quel punto. Nice. No, c'è G? Dai, io. Ah, a me non servono. Vabbè, li prendo. Devo farmi le scarpette perché sono XD. Vado a guardare le scarpette. C'è una buona motivazione, ovunque. No, non posso. Scusami. È morto, ma non... C'era una guarda qua. Oh no, c'è il signore delle carte. Arrivo. Attenzione che vi sale... Vi sale... Basta, basta, vi sale coso. Sto arrivando, sto arrivando qua, sto arrivando qua. Sto arrivando anch'io, eh? Ma non possiamo fightare adesso. No, siamo troppo indietro. Ecco. Vediamo di farmare un po'. Ecco. La volevo guardare. Ciao Zimaio. Ciao Zimaio. Ciao Zimaio. Ho guardato il Baron con lo scatto. Luca, ma sei poderoso. Garen era sempre. No. Ma vaffanculo, Luca. Arrivo. Ma muore, muore, muore. Vabbè, va giù. Ma è tutto morto? No. Non ho capito. Chi hu. Thank you. C'è la top side da pulire proprio. Pingu, ti serve una mano? Luca, sei sicuro di essere libero? No, me ne vado, me ne vado. Sono chiusato. No, io chiedevo per sicurezza comunque. Sì, no, ero un attimo di start, ma... Magari non capisco alcune meccaniche di gioco che... No, sono tornato full vita. Allora, no, ti cazzo, arrivare. No, 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 no. Volevo di arrivare gli da dietro. Eh, vabbè, sprecato. Eh, non posso far niente. No, no, no. Eh, ha sprecato anche la ulti, tra l'altro. No, 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 siete due v5. Sì, sì, sì. Ah, sì, quindi ora... Ho bisogno di farmi l'oggetto, raga. C'è soldi. Luca, hai i Lial. Eh, ho sbagliato tutto, ok? Va bene? Lial era di base e non ho fatto in tempo a switcharlo. Ho sbagliato tutto. Ho switchato quello, ho switchato le rune. Era un problema. Ma che sono un meme? Cazzo, posso... Vabbè. Come? Eh, un attimo, oggi. Ho sbagliato. Eh sì, Luca. No. Ho cliccato male e mi stavo facendo... Sì, per ma stand. Cioè, punito fortissimo. 13 secondi lo scudo... Oh Cristo. Ahia. No, no, ma lui, lui... Ti ha sciottato? Eh. Sì che... Eh. Vai, zap. Senza ulti, senza niente. Ho sbagliato tutto, Luca. Tutto. Cosa, cosa, pingu, gocciaci. Pingu, gocciaci. Non so, ma come avete fatto, Maria? Questa me lo domando anch'io. Aspetta, ti dico i danni. No, in realtà mi aspettavo peggio. Cioè, dovevamo farci il drago. Ti mostrivi? Cazzo, c'è del drago. No, è stata mia colpa. No, è mia colpa. È stata mia colpa. No, adesso ormai è troppo tardi. Vabbè, proviamo. Lo stili con una corsa. No, non l'ho fatto, non l'ho fatto, non l'ho fatto. Grazie, Luca. Non sono indietro col farm. Rubiamo tutta la wave. Credo di avere... No, no, no. Fanno il baro? Eh, non credo. Possono farlo, se sì. Lo sciolgono. Vado vuotato. Non so, c'era la stessa. Ah, l'incente non è la stessa, ne? Nessuno. Dove dare stare? C'è? Cos'è? Sei morto. Eh, sì, non puro. C'è palle l'utilizzo. Sì, è un po' che può servire lì. Il camion di faccia. Non è guardato. Ora sì. Occhio, Luca, che qua adesso... Eh, mi voglio andare, infatti. Passo con molta calma. Mi vedono, ma... Amici, il supporto è un ruolo orrendo. Concordo. Dobbiamo difenderlo, sti libri. Io la ulti, posso andare in mezzo, ragazzi? Eh, ma... Siamo in tre, già. Siamo in tre, no? Come no? Ci sono fermato. Hmm. Scusami, ma era stannato? Ma poi dov'era che mi avevo messo questo W? Spin to win, spin to win. Fa il culo. Attenzione, attenzione, spin... Eh, no, mi uccide l'altro. Spin to win. Ciao. Com'è? Mi è piaciuto quel flash ulti su... Su Jill. Di cattiveria, tu muori, fine. Hmm. Gado. Sì. Ciao. Ma dare support è difficile. Una volta sapevo dare support. Noi sono su basso. Non doveva trovare lui. Mi frega un cazzo. Quello ci ha provato a tappare. Ah, mi devo fare la correzza spinata io, poi. Dopo la redman. Non state da soli, sono TF ulti. Hmm. TF vede... Vede gli altri PG con la ulti, vero? Sì, e ti compare l'occhio sopra apposta. Luca, vieni qui a farmare, per cortesia. Sì, si sta guardando. Lasciami il carretto, però. Con quei tuoi enormi danni. Ci sono le persone qui, oh. Ma andiamo miti. Oh no. Non sa dove fossero là. Hai un tag, hai fatto la in. Se riesci a mobilizzare Jill è morto. Che cazzo è arrivata anche cosa. Luca, ma perché sei lì contro... No, sono sbagliato, sbagliato. Ho sbagliato io, cazzo. Cazzo, scusami, Luca. Luca, quella. Eh, giù. Eh, era una... No, più che altro la sfortuna. È arrivato Twisted l'istante in cui siamo arrivati noi. No, no, mi sono spostato dalla ulti perché non avevo più nessuno in ulti. Eh, Nildrik. Che trolling. Signore, che t'ho. Peccato per lo tanto, no. Veramente urlo. Però ragazzi, è la skin che è pay to win. Cioè, è palese. È palese che è la skin che è pay to win. Scusate ragazzi, ve l'ho affossata io. Ma va, no. No, ma è Gin. È Gin che ha la skin pay to win, capisci? Non va bene Gin. Ah, questo non è Gin. Aspetta, questo Gin. Scusate ragazzi, che si può vincere. Bastardo. Sì, sì. Sì, quello lozoni alla fine che falle. Pingu, tu dimmi che cosa devo fare e cosa non devo fare, please. Non so. Tu non lo sai. Non so cosa dovrei fare io. E tu fa qualcosa di più, 5. Attenzione. Ah, abbiamo finito il placement. Pronto, 2. Ah, io la mia prima partita ranked. Lex anch'io, sì. Quindi io arrivado top, ok. A che punto siete Pingu e le top? Me ne manca uno. Io sono l'oro. E poi invece... Io la prima che faccio. Cioè. Io mi sa che ora vado mal. Sì. Ma uh. Così into meglio. Così into ma di sasso. Pingu ti sarebbe più di garbo, tipo un raccanno o cos'è del genere. Gioca a quello che vuoi dire. No, ma aiutami. No, vabbè, veramente... Non ho problemi per questo. Io questa democristianità non lascio... Infatti ti sto chiedendo un consiglio. E questo non vuole dirvi un cazzo. No, veramente. Gioca a chi ti senti. Cioè, noi siamo... Eh, lo so, però... Non so a chi mi sento, support. Eh, ecco, allora... Quello non posso saperlo io. Aris, vai di leone. Sì, sì. Se ti sentirò a can giocare a canno va benissimo. Leone, è vero. Mi consiglio a disinstall il gioco. Dillo, esatto. Sono un big fan, quindi. Dov'è il Lord? Qui, il Lord. Anche perché se smentessi di giocare a questo non giocherò a più. Questa è una visione molto... Apocalittica. Ma, oh, oh, ragazzi, ho 323 fotogrammi. Ah, 0,4% fotogrammi persi. Ragazzi, tutti mi siamo fatti. Abbiamo perso Fred. Tra l'altro, quando era ieri, ho fatto Rocket Rig. Cioè, Marco è dovuto andare con l'hotspot perché la team dava di nuovo problemi. con Twitch. Perdevamo tipo 300 pacchetti al minuto, quindi ha dovuto far con l'hotspot. Madonna. Vabbè, io sono sempre con l'hotspot a streammare, però comunque... Sì, no, col fatto che lui sull'hotspot c'aveva... Ecco. Iliad, non team. Che avevo iniziato a streammare io, ma tipo, no. Basta, Jin. Jin e Ashe. Ah, che brutta botta. Jin e Ashe, ma che è? Secondo me uno dei due va top, comunque, dai. No, no. Ti vuoi stop. No, Ashe è support. Ora si gioca molto più support che ha di carry. La vedi molto più support. Ha senso Soraka? Perché non dovrebbe avere senso? Cioè, forse sì. Giocano. Soraka o Karma? Chi vuole, chi vuole. Proviamo, proviamo la cerbiatta. Cerbiatta. È una cerbiatta, no? È la, dai, avanti. L'altra, satiro. Il satiro. La satira. Oh no, aspetta. Da cerbiatta a satiro nelle passe. Che cos'è sta team comp? No, aspetta, hanno tre di carry. Ah, praticamente, è presente quando va al pub, ma c'hai troppi soldi dietro. Talia giungla. Comunque, ragazzi, siamo a 799 follower. Il prossimo che followa gli regaliamo la sub. Non è vero, non lo fate. Ma Talia è a fida, no? Sì, sì. Sì, ma poi... Che cazzo vado io? Non so. Va bene, sì, va bene. Luca, vai Fiora. Luca, sì, fai... Se uno di questi tre me lo becco top... Ma non c'è tanto... Cioè, è comunque finita. Hai Jean top. Forse Jean, sì, hai Jean top. Bello, Rammus. Poteva andare Vayne e faceva di carry contro di carry. Ma, Exhaust o Ignite? Oppure prendi... Io prendo l'Exhaust. Ok, prendi l'Exhaust. Ragazzi, ho anche questa skin orrenda di... Ah, no. Questa è un'altra skin orrenda che ho. Ne ho due skin orrenda. Questa è orrenda e questa è orrenda. Non ho fatto il tempo a prendere la skin in Trifoig. Cazzo. Oh, no, che beccato. Vedi, vedi. Secondo me... Un po' di ragazzi che è giusto che c'ha detto. No, secondo me stavano litigando per questo. Sì, sapete, la... Ho fatto l'evento che... No. Allora, bandiamo Jean. Eh, sarebbe. E adesso ho voglia di staracca. In realtà, Kaisa è in Tugina buono, quindi... Non mi interessa. No, è vero? Sì. Io che ho bannato prima. Sai che non mi ricordo, Luca? Oh, se c'ho un vuoto su che ho bannato prima io. Credo Darius di nuovo. Mi piace come Dado banna Xerath. Io non ce... Non... Cioè, non so giocare... Mi sento responsabile di questa cosa un po'. Ma che ti sei in culo, Luca? Non so giocare a prescindere. Ma contro Xerath poi è proprio una cosa persa. Sarà troppo tanti coglioni, sì. Che bello. Io e l'altro top abbiamo l'idea. Ma sta! Può rifarmelo con quell'intonazione lì, per favore. Con Kaisa ti serve uno che fa cc pesanti. Simone, adesso l'ha noto nella mia macchina da scrivere invisibile. Aspetta, lo sto scrivendo. Senti. La mia tastiera. Lo so, ha senso la cosa dei cc, però... Boh. Eh... Divertiti mid. Che c'è da Marfite? Or Cristo? Divertiti. Fizze sbagliate in sta cosa. Cristo. Dai, potrei provare Lux in realtà. Che cazzo vado, ragazzi? Siamo tutti AP. Eh, vabbè, ma siamo tutti AP. Allora faccio... Vado a D... No, se vai a... Eh, sì, tanto siamo tutti a più male. Chi vado, ragazzi? Vai, Malfa. Vai, Malfa. Se vai un mage ti distrugge ancora di più, tranquillo. Volevo andare Galio, ma non sono confidente per una sega. Fizze, i mage, lì, Sfa. Rank are top? Possibile? Sì, sì. Sì. Ma non penso, dai. Ma alla fine di AP non ho ben nulla. Il mid... Eh, Malfaite. Posso andare Mordekaiser? Non vado, non vado a te. Se volete vado io Mordekaiser in top. Tanto contro Rengar non so come giocare. Vai, vado gli AP. Ma anche Dato, AP? Sono un po' AP e due fisici. Dai, così siete tipo... Infinitamente infiniti con le mie cura. Ah? Le mie cura. Cazzo si gioca Mordekaiser? Commissario Winchester reference. Sì, non è una della macchina da scrivere in visita. Sì, mi è venuto in mente quel meme lì. Comunque lo so, Simone. Cioè, la gioco Kaiser, lo so. Il fatto è che... Non ho una champion pool di support così ampia. Cioè, avrei preso volentieri Leona, però non l'ho bannata. Morgana non me la sto sentendo questa cosa. Luca, con Deep Knight... Eh, no. Non so usare il TP, è questo di fatto. Vuol dire l'annunzatore di TP? No, si serve il TP. No, si serve il TP. Lo pigi e lo... Sì, ho sempre capito il Nike. Eh... Cazzo vuol dire? Si usa da solo il TP, Luca. Sì, ma non so fare le call col TP. Ti prendo pisellate sulla faccia, lui. Andiamo di TP, sennò Dado piange. Ma non ho capito, ma è Jax top o Rengar? Forse Jax a sto punto. Jax, immagino. No, Rengar, Rengar, Rengar. Allora sì, Rengar aveva bannato il top lane. Ah, quella skin di Voli. Ma che fai con Liel? Allora era anche ora, Liel era quella da Van Gratis, vero? Sì, da Van Gratis, sì. Quella skin è bella, bella. A lui non piace. Ma perché non ho messo la skin brutta di nuovo? No, no, no. Dado, questa è la skin brutta. La skin bella è quella bella. È quella bella, ovvio. Vuoi mettere la sua magnificenza? Niente, vuoi mettere un what you put, vabbè. Oh, tonnino. Perché tutto cazzo è uscito a questo? But what you put, vuoi mettere? No, comunque, ma fai con Conqueror? Eh, sì. Esiste? Quanto pare. Quando si ritroverà la 6-0 lo vedremo, non so. Skin trifoglio o skin? Cioè, Dado ti sei... Hai fatto tanto il dramma, no? Non ho cambiato la skin in tempo, hanno taggiato. Ma l'ho prima detto che ero disperato che mi sono scordato di cambiarla di nuovo. Questo non mi ascolta, poi dice gli inglesismi, vedi? È vero. Sono un po' cringe, è vero. Dice, fa e poi non ascolta. Non ho Lux commando delle altre. Madò, che schifezza. Lux mi dà la build a fee, vero? Mamma mia. Ho proprio il vomito, cazzo. Allora, big banana, on the go. Quanto come si faceva big banana? No, era questa? No, era questa? Sì! Madona, ostica! Contentissima, poi. Big banana. Contentissima. Luca. Quanto come lo stai guardando? Aspetta, stai qua. Big banana. E ti fa. Sì. Mi fa perché ci sono i cazzo e non ci spugno. Non male! Ho usato il flash, ma va bene. Vedi, adesso col tp... No, non ti pare, non ti pare. Forse ci arrivano in tempo lo stesso. Sì, sì. No, la cosa vale è che ho premuto due volte il flash e non me l'ha usato mai. Non ha beccato. Eh, qui. E' in questo qua ha beccato. Buchi neri. Guarda che continuerà tutta la partita a fare cespuglio minion, cespuglio minion, cespuglio minion. Lo so, lo so. Che troiaio. Banana. 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 Ho niente l'attacco adesso, lo fai. Banana. Devo solo starvi contami a me. Riusciamo a prendere un po' di vantaggio. Banana. Cazzo. Domanda! Quando io uso la ulti, lui cespugli non li può usare, vero? È vero la domanda. Certo che li può usare. Ovvio, no, perché sai. Ci sono ovviamente i cespugli spettrali. Andiamo a lontanare. No, vabbè, ma quanto cazzo di range hai? E poi non ha cooldown quella mossa, scusa? Banana. 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 Quanto cazzo di range. Ho messo un paio di bonane. Bonane. Cazzo. Madre. Hai l'ho dopo dopo. Eh, no. Scusa, ho trollato. No. Scusa, ci sono. Ho causato il silence perché pensavo di evitare di farti lo stand. Non sorry. Eh. Dimmi che ci sei perché se ne usci un po' io... Scusami, scusami. È una colpa. Mira a me, mira a me. Sì. No, non lo scudo. Vabbè. Eh, sì, nella giungla mo' non lo trovi, bello. Ah, ma io torno a farlo. In realtà faccio lo scatto. Anche in questo. In questo c'è studio qua. Qui c'è Jax. Eh, lui tipa... Noi. Tipi di Rengar? Io non tip. Sale, Fitz. Scusami, Pingu. È andato sulla mordiore, Fitz. Ciao, ciao. Buonissima. Sì. Ciao, Jax. Poi non lo puoi pushare, eh? No, no, puoi tenere il Friz, ma mi arrivano tutti sotto. Ed eccolo che parte. Ridi, ridi, ridi come la tua mamma quando ti ha visto la prima volta, ridi, coglione. Ovviamente sì, è uno scherzo tra amici, eh, ragazzi. Chiaro. Sì, sì, sì. Siamo amici di infanzia. Ridono le parole tante. Sì. Ci fanno droga. No, no, è stato invisibile. Io no, no, lo sono detto. Ah, è tutanato. Cazzo. Sono lontanissimo, mi ricordo... Eh, non riesco neanche a mana. Grazie, Luca! Ma cazzo! Non potevo fare altro modo! Ma dovevo stare fermo? Ma cazzo, la stavano scappando, me li tiri addosso! Eh, perché speravo di uccidere tutti prima. Ma dai! No, 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 ma... Luca, guarda che... Alice? No, non c'ho la vita, non c'ho la vita. Scusami. Mi ha fatto ridurizzo, Luca. Sì, è stato... No, perché? Ho detto, ti vengo addosso! Poi dico, ma che cazzo faccio? Ah, vabbè, uso le skill! Ah, no, aspetta! Ruffa! Cioè, stai a fattelo? Eh sì. Oh, cazzo, scusami. Sto veramente... Bellissimo. Sto veramente facendo delle cazzate incredibili. Scusami. Ma... Allora, adesso mi concentro. Rish, quando hai dei dubbi, guarda Luca. Caprici che... Nel senso, potresti giocare così, ovviamente. Sì. Vado, tu hai... Vado, no! Mi scusa! Oh, ma sto deficiente che mi flexo la maestria 5 nel muso dal secondo 30. Oddio, Fingu, scusami. Allora. Cazzo, che spavento te! Non mi ho neanche preso una pink. Eh, questo lo busciamo. Ok. No, Fingu, non tiltare, scusami. Cazzata nero, Fingu. Sì, sì. Non sono tiltato. Scusa. Ho sentito bestemmiare prima. È un casino, ora. Difficile sentire bestemmiare. No, no, che ti... Ma! Cazzo. Cazzo. Ma che cosa cazzo sto facendo? Ma che tassero? Ma non ci posso credere, scusami. Cazzo. Eh, ho sbagliato a mettere io questo. Ho sbagliato io a tuttare come un deficiente. No, no, se ho beniziato il notebook. Ma dai! Guarda con quanto... Ma ragazzi, adesso... Io adesso dico delle cose terrificanti. Oh, cazzo! Tipo questa. Eh, io ho troppi gol. Cazzo, scusatemi. Sono un pochino stanca, forse. Forse sa partonare il mio ruolo. Oppure... Alv cosa vuol dire? Alv... Ah, alv... Non mica avevo visto che eravamo scritto un chat. Scusate. Eh, ero preso dal farming. Per me è difficile. Scusate. 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 Faccio il giro dietro. Sta salendo il pesce. Sta salendo? Sta salendo. 10 secondi, ho la 1. Non è nemmeno in forza, niente. Mi ha fatto rengar perché ci spugli. Eh, la tua mamma, pecora, maremma. Quanto veloce sei andato, Dio, aspetta. Ecco la Q, prendo velocità. Ah, ok, credevo solo la nevasse. Precca mi coglione! Bello! Ado, ho dato, gg. No, ma era... Siamo sempre amici, eh, io e Fitz. Lui lo sa, ehm. Lo sa. Giù cammini dopo questa... Sì, 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 no, ma siamo amici di infanzia. Lui mi leccava i coglioni anche prima. Appunto, più che amici a sto punto, direi. No, no, ma... Sì. No, no, ma... Sì. Guarda come ora scappa nel cespugia. E invece... Vai, Luca, fai vedere le palline. Quanto cazzo più ottimo! Va, vieni qui! Quanto cazzo non sono le palline. Vabbè, non sarò un cazzo. Ah, giusto, che diventa proprio invisibile, quindi nemmeno il cespuglia ha bisogno. C'è Jax. Arrivo. Adesso è arrivato... E' diverso, io proprio non ci arrivo. Nice, nice! Eccolo il pesce. Ci sono, ci sono, ci sono. Non so, di cazzo che parte fa al giro. Aiuto. Eh, due, non li tengo. Dov'è? Invece sì. No, 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 no. Vengono bot, se va bot, va bec. Va bec. C'è Jax bot. C'è Jax bot, sì. A posto. Ah, anche lui, mi trick. Guarda, ciò stare. Si potrà avere una lingua in cui la massima offesa è tonto, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma dai! Ma ti vergogna dire tonto quando sei incazzato? Eh? Tonto! No, prendo il premio. Coo! Ahahah! Senti, che ti dico? Sì. Tieni. Me lo sono guadagnato. Ha ultato lì... Sì, buono. Oh, guarda chi c'è qua. Oh! Missa la bot lane, eh? Winnie, amico, Winnie! Il sasso! Mico, ah, Winnie, amico, Winnie. Perché è venuta in mente la sigla di Winnie the Pooh, era molto bella. Sì, vieni la sigla di Winnie the Pooh. Sì, vieni la sigla di Winnie the Pooh. Sì, vieni la sigla di Winnie the Pooh. Con te partirò. 20 secondi al drago. Vengo al drago, difendolo a top. Ciao, Gemonotte. E io sono deceduto. No. Io ho il TP. Vengo al drago con il TP. Ah, beh, Luca, ce l'hai? 17 secondi al... Alla ulti. Vengo al drago col TP o vado in top? Stai in top, poi si serve... Sì, sono in top. Sì, tu ti fai la torre. Ah, vengo a rafformento, sono io. Non arrivo. Si è nascosto, eh? Sì. Non ti arrivo. Cazzo. Prelevo, lui. Prelevo. 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 E io visto che non faccio il tempo ad arrivare vado in top. Ah, tranquillo. Mi ha ucciso. Niente. No, ti stavo curando. Non ci credo. Ti stavo curando. Ti stavo curando, non ci credo. Oddio. GG, Dodo. Dio. GG. Bravo, Dodo. Infanco, infanco. Arti, ho anche mandato la gif dei minion. Dei minion? Dei... sì. Ma i minion di lol o i minion da boomer? I minion di... I minion da... Di cattivissimo me. Che dice... Bonana! Ci sta. Ah, è morto il ferretto. Arrivo. No, non arriva, non arriva. Non arriva, sta salendo, sta salendo. Maremma. No, 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 no. Ah, ma c'era anche il topo, allora. Eh, stavo salendo, sì. E se c'era il topo? Scusate, ho fatto cazzata. Non ero in rinici di torre. Luca, quanto pare lo eri. Eh, ma no! Luca, vuoi mettere in discussione la torre? Bello quel flash, Luca, comunque. Eh, mi è tornato indietro, non so perché. Eh, eccola, eccola, eccola. Ti è ritornato in flash. Sì, 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 dai! Io faccio in flash, e lui tipo, no! Ma per te! Non ho capito! Arrivo, 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 arrivo. Stavo pianto, Rengar in ley. Cazzo! Non ho fatto! Eh, no, ma se un universo li metti... Cosa ho? Cazzo. Eh, la tocca, nana. Sono anche avvisato. Molti figli. Pinguo, aggressivissimo. Avete bisogno mid? Sì, avete bisogno mid. Eh, vengo anch'io, tanto la tocca è caduta. Cazzo, nano! Deriva Twitch in faccia, credo no. Me ne vado. C'è Rengar top? Eh, che strano. In un cespuglio ad aspettare. Ah, no! Beh, sì, è in un cespuglio ad aspettare. Un'internozza da ulti. Lo stai dicendo. Ah, se n'è andato. Cazzo. Io non ho farm, però, Maron. Hai probabilmente più milioni di me. No. No, no. Non ho proprio farm. Io ho dato mezza vita con l'acqua, quel Twitch. Un po' pazzesco. Sì, Twitch è una difesa. No, ma non mi aveva preso il pesce, bimbi. Sì, non vengo. Ma non mi aveva preso il pesce, bimbi. Sì, no, comunque non mi aveva preso, l'ho visto. No, zappo. C'è anche Rengar. No, no, non ti lascio la luce. Sì. Ok, prima parte. Ma magari arrivo... Ah, venite sotto la passiva. Ti ho urtato? Ti ho preso un giaccio? Sì. Che si sta tancando la torre e la torre non gli fa danno? Non era sotto l'abilità, eh? Eh, cosa ha flashato il pesce? Lascia, lascia. Io sono più che sicuro che un colpo della torre abbia colpito Chax e non gli abbia fatto danno, però. Va bene. Ok, 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 non c'è niente a uno giugno. Va a preparare un drago, credo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Rengar è top. Rengar è top. certo che questo tweet c'è un cane come luca quello che danni fatto il c'è il mega potente stia se tutto giugno non credo sia quanto cazzo di la stila cosa scusate luca lo riesce a rallentare credo che abbia visto si si spamma la cosa fama la cosa stupido idiota non ho capito ammala maestriga bravo fermati per spammarla arriva twitch 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 hello cazzo dove sono aiuto non ho capito quel tweet 8 secondi alla ulti si si io rimango e che cazzo non muore mai no cazzo mamma mia che che merda con le gambe che è sto rengaro si no vieni qua eri troppo lontano ma che cazzo via 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 io non ho capito eri lontano da me pingu sorry non venite qui non venite qui voi non sapete che esisto a rushi ti dice non è vero non è vero la disperazione porca fottata che palle marem ciao soppri ma dici come mello che susuraka era consigliato contro rengaro e tizio chi è cosa è taric per questo l'ho fatto ma emotami sulle palle brutto coglione di me c'è in realtà pizza è si scoppia emotami sui coglioni stupido stupido l'avevo preso era no è uscito di due pixel tipo si si quando lo faccio io mi prendono però che si fa? mi uccide twitch nella mia ulti ma si perchè fa danni ma porca puttana si 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 è fullato praticamente si 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 è fullato praticamente si è fullato praticamente stupido che cazzo ok lasciate finirlo ulti di taric mi sa che finiscono mi ha ucciso prima che finissi l'animazione guarda gg come sei non lo so guardissimo guarda hard pushiamo sta cazzo di mid noi vado a pushare la top ci facciamo dare il baron ok non ce sa niente le dna normal czy O oddio 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 c'è il drago fa 50 secondi e infatti questo non devo guardarlo now me Ragazzi, mi sto dimenticando di fare le scarpe. Engar Jack Smith. 5 secondi ero ulti. Sto arrivando al drago. Winnie, amico, winnie. In realtà vuole stare top e poi... ti pare. Ma io, Luca... Chi volete che vi porto via dal fight? Con la ulti. Tanto... Rengar. Eh, no, no, non si fa vedere. E via. Ci muoio, eh. Però, non è nel fight. Anch'io sono morto. No, no. Ok, ma hanno lasciato un flash. Rengar fa un po' quello che vuole, eh. No, no, non ho capito il danno di sto Rengar, eh. Ma dobbiamo ingredarci, eh? Ma dobbiamo ingredarci, eh? Cristo, Cristo, Cristo. No, io non ho capito il morello. Cristo, che palle. Fare il secondo oggetto. Che palle. Eh, devo fare il morello, sì. Eh, io appena spuno, tipo... E infatti stavo cercando di tenere... Ciao Charan. Stavo cercando di tenere la notte. Ciao Charan. Ciao Charan. Tenere... Vingu in vita. Però no, ma anche in una posizione candida di merda. Oh nice! Mamma. Infatti il drago da solo. Bravo. Ho capito, Matteo. E se la mia nonna aveva le ruote, era un carretto e non era morta. Che vuol dire? Che se ne sapeva che andava prima di tutto Top Rengar e poi che usceva sto male qui ora. Sì. Ma... Totanka. Allora, di carry l'exus. Tra l'altro. Lasciamo stare. Oh, il dente. Finalmente. Eh, io dopo di questo faccio il morello, eh. Che si fa qua mid? Io ci sono. Sto arrivando. Sì. Occhio lì. Sì, sì. Ci sono. Lo avvicino. No, niente. Ci ho provato. Se lo prendevo era... Eh, vabbè. Eh! Non so più da fare domanda. Non cosa so. L'idea è di prendere con un grab qualcuno è... Un po' lo devi prendere veramente. Vado. Stop. Non facciamo adesso. Non mi ha... No, ma non ci ha lasciarla. Mi sono levato da voi. No, no, sono levato da me perché mi piava anche a me. Eh, sì, sì. Mi sono levato dal gruppo. Se ne eravamo morti in due. Comunque non mi aveva preso come a te prima, data. Era stesso range, eh. Stanno venendo top. Tanto avete tolto quello il problema. Dadoff. Gigi. Cazzo. Gigi. 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 stegli stegli così non verano tranquilli mi metto nel cestuto andiamo bene presentiamo arrivare ancora e taric arrivano tutti e tutti li abbiamo fatti per me cazzo non ho fatto in tempo a realizzare dovevo andarmene più veloce questo è solo ultifizio, c'è Rengar qua? veraccio che Rengar che no, non è vero, non è vero vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo vaffanculo, vaffanculo e devi check e devi check e quindi no, gg, quelle cude, cazzo guarda da Twitch oh, grazie Pingu cosa mi ha Ma c'ho ancora veleno Anche dopo l'Ozzonia Che senso Bravo Pingu GG Pingu Si stava dicendo che comunque sia Harder Sensor o Redemption? Sento Trago 50 secondi Usciamo un po' Ma si Pingu è Best Pazzesco Pazzesco Pingu mi ingravida Veramente Pingu Voglio Io vordo 3 secondi Ma bene Vabbè Pingu Ficca la cappella in faccia A questo punto Non è neanche exhaust Ragazzi io però L'anima da top lane Mi viene da sprint push Ce la faccio La seconda volta che vado in lane Arrivano Uso questo Va bene va bene va bene Che c'è doia che è successo Ho fatto Totto la loro ward 10 secondi la ulti L'ho rubato scusate L'ho rubato L'ho rubato io Questo qui scusate Non lo smile Non lo smile Uccidiamo lui Cazzo Cazzo per poco Cazzo Devo ultare ragazzi Perché se no morivo Vabbè Ho capito Mancavano 3 secondi allo smile Peccato Eh io volevo grabbarlo E portarlo in mezzo Vabbè Io volevo Costarlo Stannarlo con Il silence Penso non interrompo lo smite vero? Sì Sì? E com'è possibile scusami? Eh è un'abilità È uscito Eh via me ovviamente Vabbè Ma forse ce la voglio mettere in full down però Inibito la deck Qui ha un deck Non si fa sbattere cappella in fascia Ma perché? Perché no? Farmi te quella lì c'è Ah sì cazzo No no Vieni tu Io sono fulgato Cazzo il cazzo di paura mi faceva Vado a farmi il ready Ah ma sono tutti Pazzesco Ascolta Secondo me si fanno A chi dici? Non so Volevo capire Sei tipo solo Secondo A me si fanno No dicevo Whatsapp ma Ho sbagliato Ho gridato Eh no Sì No Ragazzi Mi ha detto di morire Mi ha detto di morire Oh no che brutto flash E perché ho finito la tua plantina Ma in quanti sono? Eh tra Almeno tra C'è anche Rengar No C'è Twitch e Rengar entrambi lì È stato torrendo Sì è stato tutta la mia vita davanti Questi quattro minuti sono pesanti C'è il mio cuore Toh c'è Fizz Fizz qui È guardato Perché c'è chi mi giudica E pensa che Non si è mai successo a nessuno E chi mi mente Aspetto ho sbagliato Sì no non ho Sbagliato Insomma è successo a tutti Rengar Rengar Ho capito comunque No ragazzi 33 minuti 83 minuti È qui è qui Rengar Se volete lo attiravo Eh niente Gia che male Ha il piede Oddio Un croppo il piede No Con cosa lo tieni il mouse Perdonate No 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 Non lo so perché Non lo fa malissimo Ok pa- No no Cazzo No ok sta passando No no sta passando Madonna santa ma che Eh ci sono sorpresone Ti dì eh Madò che Che tentazione Voltare nel cespugio Sì Perché urli le mie orecchie Scusa Ma ancora al crampo No è Dietro Dietro Si va Si va a suicidare Sì vabbè Cazzo Sì Sì vabbè Sì C'è il baron eh Ok Rengar non c'è Quindi possiamo Profittarne Non so se Ciao ciao Chi è il loro Junkler È morto Se arriva un cicerieno Se arriva un cicerieno Non è Aveva no Sì Portato via Cigi Sì che Tutto vostro Cigi Mamma mia Luca Se mi tocca farti complimenti Qualcuno mi aiuta Grazie Non riusciva a colpirla Che cazzo di pene Sì 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 C'è anche il drago Facce la cosa Eh no la top io Che bisogno di soldi Vado verso il drago Io ho il tp Arrivo poi col tp Ah sì Luca Hai il tp Sì Come mai Attenzione Luca che dici Di tp Arriva arriva Non ho la ulti Aspettiamo che finisca la ultima Cazzo Si è proprio maltrizionato Adesso possiamo Prendere Eh Hanno colpito mai per primo Non posso procurarvi Beh tanto fate dei danni abnormi Ok 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 Eh lui è un po' Vedi figlio Mamma Va bene figlio Valle Mi scherzo è È perché Pingu Quando tilta 3 yard Con tilta per colpa nostra però Esatto Sì sì No per colpa niente Ragazzi No Sì che Xt champ Solo lui all'anima vero Noi che siamo morti Non ce l'abbiamo Sì sì Peccato Ecco il bar Xt champ Il fatto che ha 30 kill No infatti Oh mio dio ma su serio È una tipo 30 Ok Ragazzi ho 84 minion Ma che vuol dire Guarda c'è Ci sono delle wave incredibili da formare Ma io sono morto Ti dà tutto il video Cosa vogliono ad altro Ma è tipo bellissimo Cioè Nel 2013 Quando ho installato sto gioco È un nome bellissimo Tra l'altro Ma poi della gente che parla spagnolo Vuole dirmi qualcosa Ma praticamente Tonto 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 Cioè Uno che mi dice Tonto Tonto Cioè uno che per offendere Dice tonto Sì Ho sbagliato Tutto un cazzato E vabbè tanto tanto anche volendo Fredderlo Non ce la facevo Pingo Occhio occhio Esatto Esatto Ci stanno venendo tutta la terra Mmm Ti sa Interessante Così No 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 E Aspetta non ci sono Chi ha flashato Io Ah ok Credevo Fizz Rengar speedpusha Rengar Eh sì Ma se ci giriamo su questi Ma siamo in quattro Io non l'ho nemmeno visto Quello Rengar Ok No Ha flashato Ok Cazzo La mia vita però Quanto sta scendendo Grazie Sì Hanno tutti No No Solo Tarik Se siamo in un meeting C'è anche Fizz top Che Che dici Luca Per tanto mi prendo vesto Si va Aspetta 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 Non sappiamo più dove sono Che posso arrivare da qua Sono appena salvato Fizz qua Fizz qua Occhio Ho provato Ho ucciso Twitch Mi devo dai coglioni Ah Peccato Se si avvicinava un altro po' Volevo tirarlo nel mischione C'è la top Eh la top Esatto Vado io Vado io Vado io Vado io Vado io Peccato Buonana Sì Per curarmi Ragazzi La vincita Luca Non fare la greedy bitch Volevo Non ho Canso Devo fare Devo fare la clessida E poi mi sa che faccio il relay Che Il remake Ormai un po' tardi Sa possibilità anche la torre Se la facciamo Vai 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 Avete le mie ulti anche? Anche c'è il Baron volendo Eh io tengo la ultima di Baron Ho il TP Ah è uscito sul G Porca troia No lo c'ha down su di te no Ah l'ha preso Tariq Grandi Tariq Ti pari in TP top TP top Ho chiudato Un minuto al drago Ancora Eh Luca Te vai top A difendere Se becco un punto Se non ci sono cespugli Lo ulto E me lo dovrei fare Se non ha cespugli Vabbè Se no Vengo anch'io Vengo anch'io Luca Come c***o c'è là? No se lo fa Se lo fa Mi ha ultato Anche io ho bot Anche io ho ultato Eh difendete il bot Bot si Sto andando Non ho la ulti però Potrei arrivare solo Ah ok Vabbè Aspetta Ti ho giusto Che non fa questa Torno Munchi DRAGO 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 Faccio una miniatura, sì. No, che se questo... Sì, no, questo più che l'altro serve. Hmm, i rocks lì dietro. Eh, c'ho... c'ho la ulti, al limite. Si fa? Lo volete portare fuori? Aspetta, 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 togola la pin. Togola! Però ci pusciano le wave, ragazzi. Eh, sì. Bisogna farlo. Bisogna farlo perfettare. Se si avvicina a Jax, lo unta. Io lo silenzio. Ma appena si è fatto, tocca a me. Nice! E' morto. Bene, 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 bene. Uno becca, uno becca, e gli altri fightano. Andiamo a fightere mid. Chi è che becca? Io, 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 io. Vado, vado, sta beccando. Poveraccio! Beh, ce la fai dare? Eh, non lo so. Becco io, becco io. No, beh, stiamo beccando tutti, aspetta, no. Beccate voi, allora. Mi vado a cercare. Mi vado a cercare. Se ha distruggito la torre è finita. Bene. Eh, volevo flashare per... Pushate, pushate. Almeno due push, non se resta là qua dietro. Esatto. C'è anche il Baron. Beh, quasi quasi, in fight li mazzacriamo. Ma io non griderei tanto, c'hanno la base aperta, ragazzi. Non ho capito, Pingu. Facciamo sneak come tu. Ok. Ti dici che non hai mordato? Eh, te ne hai mai giusto, davvero un attimo. No, c'è il cooldown ne ho... È arrivato il furbo, ragazzi. Nice. Bravo, è arrivato quel furbo. GG, danno. Non volevo dire... Attenzione. Nice. GG. Sto provando a pushare un po' la top io, eh. Per mettergli pressione su un'altra lane. Fizz viene top. E' qua. Va benissimo che venga ciò. Ah no, guarda, guarda dove è qua. Che cazzo fa lì? Vai, mancia. No. C'era Jack's mid, eh? Ehm. Ehm. Ma... Qualcuno verrà top ora, va a fermare me. Ehm. 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 C'era Jack's mid? Ehm. 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 Ma qualcuno verrà top ora, va a fermare me. Ehm. Ehm. Ok, guarda. Ehm. 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 Di entro in base. C'è il vito. Sì, anche noi. Tirate dritto, tirate dritto. Sì, sì. Qui ci metto per tutto. Obiettivi è, non kill. Luca? Sì, sì, c'è stato stato Luca. Luca aveva vinto. Siamo rizzendo il coso. Un rap. GG. Ehm. F*** off. no non mi fa scrivere io ho scritto suck me no lo devi scrivere tonto tonto chiudo il cg a casa e mi ha fatto prendere il forziere ma non è vero non me l'hai dato allora adesso godiamoci un attimino i danni sì che 75.000 danni Pingu no vabbè va bene va bene io mi ho anche giocato male se avessi preso dei minion anch'io se non avessi trovato Rengar in lane il rapporto non è il mio ruolo invece amici secondo me è una cazzata quella che hai appena detto che è facile fare gli assist quando il tuo di carry ha 34 kill legimi gli assist 25 25 25 sì sì certo dicevi tu e noi i miei ah ho capito leggi mi gli assist non so leggi ma che fatica vabbè allora sì ciao qui sì ciao Alice Sapport un Veneto a Napoli cosa c'è in realtà qual è il sillogismo è bellissimo ok allora esegui un ride verso il canale non ci sono canali app c'è nessuno i orsetti nessuno i orsetti ma perché e perché non me lo mostra su non lo so però non sono loro effettivamente dei nostri guarda no ci doveva essere i orsetti devo dire c'è una composta ride orsetti gemmo gemmoni 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 ragazzi grazie mille a squeezy cheddar per la resa grazie squeezy cheddar grazie a zappo e pingu che si sono prostrati per questo hinting prostrati nel senso prestati voglio dire qualcosa no sì grazie inizia con pr esatto pro e niente noi ci vediamo domani come ah ragazzi domani alle tre c'è il best off e poi c'è anche la mia live vabbè c'è anche il day one di little night ma chi se ne frega la dimmi cosa non lo so più domani ve l'ho dimenticata dai io non so più parla domani alle tre su youtube c'è la premiere del best off di autunno 2020 ma perché c'è un po' di funerario comunque sia c'è il best off e poi c'è la live il day one di little night dimers 2 dopo che avete visto l'unboxing su instagram mi raccomando se non l'avete visto guardatelo domani venite alla premiere se no vi sbattere no vi voglio bene buonanotte andiamo delle orsette di diciamo prostratri tonto 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 bene ciao amici ciao ciao ciao